Il personale del suo lavoro, gli piaceva insegnare tanto quanto ballare e dedicava gran parte della sua vita a questo. La cosa gli amava di più era vedere i suoi allievi ballare. Ed ora facendo prova, proviamo tutti a rivivere quella storia ed immaginiamoci tutti all'interno di essa. Per far ballare i suoi allievi c'è bisogno di musica. Chiamiamo quindi un musicista col suo strumento. Ora ci servono i miei figli e i figli e i miei figli, Giancarlo e Della, Giove, Giove e Della, Daniel e Marisa, Giovanni e Dan. A presto! Grazie a tutti. Grazie a tutti.